e allora parliamo con il nostro ospite che in collegamento con noi luca telese giornalista tra le varie testate insomma la 7 tpi luca grazie per essere qui con noi buongiorno ciao buongiorno a tutti senti partiamo dal referendum e quindi io ti chiedo ha vinto il populismo ha perso la democrazia ha vinto il buonsenso tu come la vedi sull'esito del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ma io personalmente ero per il no perché è un taglio senza senso nel senso non produce nessun risparmio casomai un po di spreco non ha ancora avuto dei bilanciamenti istituzionali che sono necessari dico che come uno che ha una ferrari la tiene dentro un garage paga 2000 euro al mese poi dice va bene ma non faccio la benzina così risparmio ecco la ferrari è la nostra macchina parlamentare i tecnici gli uffici studi funzionari molto costosa ma anche molto pochi lo sanno molto efficiente dopodiché il risultato del sì con tutti i partiti schienati per il sì è quasi deludente però il taglio cettato appunto quella storia è finita come come utilizzerà questo voto il movimento 5 stelle cercherà di sfruttarlo fino il più possibile per riproporsi in qualche modo in salute dato che i sondaggi in generale anche i risultati vari delle elezioni le stesse delle regionali insomma lo vedono appunto come un movimento che sta perdendo energia cercheranno di cavalcare questo risultato che di mai ho definito storico ma è la riprova che non è storico ma è un risultato abbastanza deludente e proprio nel dato politico del movimento 5 stelle a livello regionale prende il 4 il 5 l'8 il 10 in puglia dove alle politiche che aveva il 40 dal 40 al 10 e alle ultime elezioni europee le più recenti con dei voti veri aveva più del 25 quindi non è un buon risultato non è un movimento di stato di salute è un movimento che sta in mezzo a un transito in queste elezioni ha provato a dire sia col tonificante del referendum sia col non alleazio di ritorniamo a bei tempi in cui eravamo contro tutto e tutti non gli è andata bene credo che a questo punto dovranno scegliere o stanno nel governo e stanno in un'alleanza oppure ne escono fuori perché stare un piede dentro e un piede fuori comunque si pensi non può andare più bene tornando al referendum dunque non credi neanche che 600 sono più controllabili di quanto possono esserlo in mille considerato che ci sono anche diversi diversi parlamentari che diciamo gli assenteisti e in qualche modo un numero più ridotto consente di responsabilizzarli e di fare in modo che siano più come dire identificabili quando le cose magari non vanno bene o quando comunque c'è da capire chi ha fatto cosa a questa degli assenteisti dopo quella stupida del risparmio era la stupida era la seconda grande che si potesse immaginare ma ripeto io lavoro in parlamento da 30 anni faccio il cronista politico quindi l'assenteista o è un parlamentare VIP tipo il segretario del partito e quindi ci sarà sempre comunque anche se fossero tre eletti uno sarebbe il segretario del partito che è uno dei più assenteisti oppure l'assenteista è tipo l'avvocato di Berlusconi e chi può pensare che Berlusconi dovendo sacrificare un peone o il suo avvocato che gli dà dei ritorni di immagine di beneficio di comodità sacrifici il suo avvocato che dimmi quindi era una stupidaggine ma non mi fate parlare di questo è stata una cosa così stupida questo referendum che uno dice dei coglioni che gli viene in mente una cosa così e la raccontano al mondo come fosse geniale immaginate il dirigente di un albergo a 600 camere 50 dipendenti dice bene io tengo le 600 camere però licenze un dipendente su due cioè i dipendenti sono quelli che fanno funzionare la macchina non sono dei beneficiati quindi colpire i parassiti tutte queste sciocchezze che ho letto che riecheggiano le vecchie campagne di stampa antiparlamentari del ventennio cioè in realtà ci saranno meno parlamentari sui territori in realtà ci sarà un parlamentare a Cagliari e non un parlamentare nella provincia di Cagliari ci sarà un parlamentare a Roma e non un parlamentare nella provincia di Roma e quindi avremo meno rappresentanza meno democrazia in questo paese tutto qua vediamo se riesco a beccare allora la terza diciamo così considerazione che potremmo identificare come hai detto tu in un po' stupida diciamo così però una delle altre motivazioni che ha spinto al sì era il fatto che siamo al terzo referendum nel giro di 14 anni vado a memoria che era il 2006 con Berlusconi quindi dovrebbe essere 14 se diciamo no anche a questo referendum per la terza volta consecutiva c'è il rischio che di referendum costituzionali che ovviamente vorrebbero migliorare una costituzione ottima ma sempre migliorabile come dire 3 no in 16 anni vuol dire mettere una pietra tombale sulla voglia e sulla speranza di apporre qualunque altra modifica alla costituzione insomma questo è un ragionamento un po' di pancia da questo punto di vista tu come la pensi? due referendum precedenti erano come questi uno era una riforma costituzionale fatta nel retro di una champisteria poi c'è il consenso della gente che ha risposto no il referendum di Berlusconi era un tentativo cioè tutti hanno riprovato a riscriversi la costituzione a loro immagine e somiglianza tra l'altro in modo maldestro da incapaci e hanno ricevuto dei no quindi era una cosa semplicemente sana così come il fatto che con un voto puramente d'opinione il no sia stato così forte lo considero un miracolo cioè immaginate che tutti i partiti dicevano sì sì italiate ci punite veramente va bene va bene va bene se no se no mi attacchi il telefono va bene andiamo sulle sulle regionali e l'opinione diciamo adesso sulla bocca di tutti è che queste figure forti a livello regionale come zaia come de luca come emiliano e come totti possano in qualche modo essere un po le figure politiche nazionali del del futuro dato il vasto consenso che raccolgono e dato anche forse anche la voglia dei media stessa di così insomma creare nuove situazioni no si mette si mette zaia come alternativa a salvini si mette totti come erede di berlusconi e si mette si mette de luca come possibile figura futura non giovane ovviamente perché giovane non è diciamo comunque alternativa alla leadership del del centro sinistra secondo te la strada è questa la direzione che stiamo prendendo è questa dio ce ne scampi dio ce ne scampi buono per i cacicchi come li chiamava d'alema ma c'è una non trasferibilità per cui siccome le regioni sono in naturale conflitto con il potere centrale quelle sono le colonne d'ercole cioè molti sindaci di grande successo pensate a bassolino quando diventano ministro molti governatori hanno la tentazione di fare il salto poi la verità è che più si consolidano nel loro potere locale più diventano inadatti al potere nazionale forse l'unico che potrebbe avere una chance in questo senso è zaia che è sempre stato una figura con una visibilità nazionale ha gestito bene la crisi ha preso un risultato tale che farebbe quorum anche solo con i voti del veneto però la politica nazionale è un'altra cosa de luca ve lo immaginate de luca che fa i suoi comizi all'ira tv da presidente del consiglio arriverebbe al 118 e se lo porterebbe via cioè il fenomeno folk può andar bene a un livello locale a livello nazionale grottesco c'era stato un caso tu senz'altro lo ricorderai di una figura molto forte a livello di qui però parliamo di sindaco io sto parlando di tosi che è stato sindaco di verona a lungo e sembrava una figura che quasi si è visto esatto esatto ma guardate anche rutelli che ha provato senza riuscirci e poi non è riuscito neanche a diventare sindaco lo stesso veltroni che pure era una figura nazionale prestata a roma non è riuscito a fare il salto da filo di roma cioè è pieno di esempi poi all'italia serve veramente un potere centrale illuminato serio tecnico di prospettiva che facciamo le ordinanze il tipo arriviamo con lancia fiamma se c'è stata testa dell'università spariamo con lancia fiamma il governatore che dice i cinesi mangiano i topi vivi cioè capito stiamo parlando di quindi salvini può stare tranquillo no salvini non può stare tranquillo ma se c'è qualcuno che frega salvini è appunto la meloni che è la leadership del centrodestra è contesa nelle primarie quanto a todi come re dei berlusconi insomma io ci metterei un po di cautela ecco l'unico re dei berlusconi temo che sia berlusconi ok quindi da questo punto di vista poco cambia è stato berlusconi così come il più feroce nemico di renzi che è dello sconfitto di queste politiche si chiama matteo renzi ok quindi da questo punto di vista è poco cambia il l'esito di queste elezioni mentre cambia molto perché c'era una scommessa di c'è due scommesse in atto da un lato quella l'abbiamo chiamata autonomista di chi nei cinque stelle diceva vediamo se siamo ancora in grado di essere quelli di prima e la più grande sconfitta è quella della candidata la ricca sì che in puglia era accreditata alle 15 e poi ha preso il 10 perché molti elettori di cinque stelle hanno votato emiliano per non far vincere fitto e l'altra scommessa era quella dei renziani cioè viviamo giù zingaretti mettiamoci bonaccini ecco un altro sopradimensionato da cacicco regionale a possibili e leader e ritorniamo come prima questa scommessa è stata bocciata dagli elettori perché come avete visto il povero renzi adesso lo deve andare a cercare col microscopio elettronico credo che abbia preso l'1 e 1 scalfarotto candidato presidente della puglia ha preso l'1 e 1 per cento poverosicciolo bisognerà aiutarlo ci sarà o meglio il pd chiederà un rimpasto a conte e se lo farà conte glielo concede sarà disposto a concederlo ma di solito quando ci sono delle vittorie sperate come questa il sistema si stabilizza ok non so se conte vuole fare un rimpasto ma fare un rimpasto vorrebbe dire aprire degli appetiti dei rancori dei problemi quindi magari c'è troppo una cosa indolore concordata altrimenti squadra che non perde non si cambia direi a proposito di squadra che perde o che vince insomma eh gli stadi hanno riaperto ne avevamo già parlato ad agosto tu mi sembravi abbastanza ehm per il sì questa volta sulla riapertura degli stadi in qualche modo e dello sul riavvio del campionato ehm alcuni dei tifosi hanno detto meglio qui che in centro nelle varie nelle varie città quindi insomma da questo punto di vista la direzione è quella è quella corretta ma assolutamente sì se c'è un posto dove si può creare non solo un sistema di collocazione che prevede il distanziamento eh e questo è dettato dalla possibilità di avere posti numerati puoi metterli a scacchiera puoi metterli in diagonale puoi metterli come vuoi ma puoi metterli distanziati ma potresti addirittura fare ingressi e uscite controllate cioè facendo entrare quelli di un settore uscite quelli di un altro in un determinato ordine solo c'è questo pregiudizio stupido per cui il calcio è l'occhio dei popoli e allora che facciamo abbiamo il covid e riapriamo gli stati sì perché come direbbe Volterri il superfluo è necessario se tiene il distanziamento in uno spazio che è all'aperto non si capisce perché non puoi entrare perché al supermercato al chiuso in fila sì e allo stadio all'aperto in fila no mistero Senti per chiudere chi ti ha impressionato di più andando nel calcio giocato la doppietta di Ibra la vittoria della Juve di Pirlo l'arrivo di Morata l'arrivo di Godinal Cagliari cos'è che ti ha colpito di più in questa prima giornata? Allora l'arrivo di Godinal Cagliari per motivi aspettivi ovviamente sarà interessante come l'inserimento però mi piace molto Ibrahimovič 40 anni lo so a 50 anni non so cosa faremo noi se io e te saremo ancora vivi e Ibrahimovič con i capelli lunghi e bianchi chiederà una squadra a vincere uno scudetto e capisce? Troppo bello Grazie a Luca Telese buon lavoro Luca e a presto Grazie, ciao Ci fermiamo per un breve breve pubblicitario al rientro torniamo ovviamente a parlare di mercati e di quello che sta accadendo insomma a livello anche macroeconomico tra poco